Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Quatermas, che mi chiede di parlare del film del 2004 di Paolo Sorrentino, con un grande Tony Servillo, Le conseguenze dell'amore. Sorrentino aveva già dato dimostrazione al suo grande talento e la darà almeno fino a This Must be the Place. In questo film, ambientato in Svizzera, si narra la storia di Titta Di Girolam, interpretata appunto dal grandissimo Servillo, che praticamente noi vediamo stare in Svizzera da quasi 10 anni, che vive in questo mega albergo con il quale conosce semplicemente questa coppia di ricconi che ormai ha perso tutto e che vive nel loro ex albergo, appunto in queste camere. Quest'uomo non capiamo bene che cosa fa, ha uno stile di vita abbastanza elevato, ma sembra che non possa assolutamente lasciare la Svizzera. Scopriamo che praticamente è un commercialista per i malavitosi e con il quale fa girare i soldi appunto in Svizzera, che ha commesso un grosso atto e per il quale non può lasciare più la Svizzera. A un certo punto però il nostro si innamora di Sofia, questa giovane appunto barista dell'albergo, la quale non vuol dire che cosa sta perché lui è lì. E poi il film continuerà appunto con vari colpi di scena per una messa in scena totale di un Sorrentino che parte già con quelle inquadrature meravigliose e iniziali con titoli di testa che fanno subito capire a che piano si casca. Grazie a una gelidissima fotografia di Luca Vigazzi, fantastico nel fotografare questa Svizzera tremenda e nel dare appunto con i tagli più freddi un certo tipo di espressività e con i tagli più caldi un certo tipo di calore. Ottimo il montaggio di un grande Giorgio Franchini per un film che è una bellezza, con una grandissima sceneggiatura, secondo me è uno dei film più interessanti di questo tipo, proprio con un'idea appunto di messa in scena totale, con le giuste lentezze, con un finale tragico eppure così potente. E ripeto, per un film è recitato benissimo, grandissima, anche Olivia Magnani a fare appunto la nostra Sofia. Per un film che alla fine è un noir, un vero noir che si sospende tra il dramma e la storia d'amore attraverso un personaggio, appunto quello di Titta, che non è assolutamente comunque un personaggio positivo, un film appunto che ci fa notare un mondo, un mondo che in realtà è trasparenza del mondo stesso, cioè sta lì, sembra non esistere, ma in realtà vive attraverso essenzialmente un modo di fare che è quello appunto di far finta di non esistere, un po' come il diavolo in un certo senso, quindi è un mondo che sembra nascondersi e per tutta la prima parte del film, infatti il nostro Sorrentino non accena a cosa sta facendo il nostro Titta all'interno di questa Svizzera, anche se tutti lo capiamo in un certo senso per il modo di fare, per la scena iniziale. E poi il tutto viene piano piano sempre più spiegato e il nostro alla fine fa un atto d'amore veramente indescrivibile al mondo e a se stesso in un certo senso, cercando redenzione. In un film dove appunto la vita del nostro è sempre preorganizzata, preordinata, con le determinate cose da fare tutti i giorni per evitare di fare incazzare chi l'ha messo lì in esilio. E Sofia in realtà è ciò che spezza l'ago della bilancia, è ciò che fa andare fuori di testa il nostro, ovvero l'amore. Per un film che ha delle musiche splendide che mescono ai Mogwai, a Ornella Valonia, ai Boards of Canada, Lali Puna, Isan, in un miscuglio veramente briuscitissimo, come al solito riesce a utilizzare le musiche splendidamente, anche quelle appunto di Pasquale Catalano che è il compositore dello score originale. Ma per un film veramente, ripeto, che ha un ritmo perfetto, che lascia da lì far stare bene, forse non è un capolavoro, non è assolutamente forse questo, ma è sicuramente un filmone, uno di quei classici film che in quel periodo riuscivano veramente a farci aprire gli occhi su un cinema italiano fra lui, Garrone e molti altri che sembrava rinascere ancora di più, che questo cinema sembra un po' rincartarsi su se stesso adesso, nonostante alcuni successi di pubblico o no. Quindi per me un film assolutamente comunque da non perdere queste le conseguenze dell'amore, recitato da Dio, scritto dal nostro regista, sul suo soggetto e diretto veramente alla stragrande. Un film d'amore ma un film anche noir che tocca anche livelli polar, sembra di vedere ogni tanto qualcosa di francese, per una pellicola per niente provinciale, esportabilissima e che rende veramente grazie a un grande attore come Servillo che qui è stato lanciato e che porta Sorrentino su un altro piano. E qui praticamente questo, il film dopo e quello prima sono veramente assolutamente eccellenti e sono opere che ne andranno ricordate nel tempo. E queste le conseguenze dell'amore non ha perso un minimo di smalto in da vent'anni che è uscito, per chi non l'ha visto, quindi un film assolutamente da non perdere. Il link del film è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il puzzante per donare direttamente su YouTube, ve lo super grazie, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio, a Giro per l'Italia, campanina mi piace, insomma iscrivetevi al canale, e questo è le conseguenze dell'amore, è essenzialmente un grande film, un film veramente romantico, un dramma, un film di mafia, un noir, che mescola il tutto senza colpo ferire, facendoci arrivare alla fine veramente col cuore pieno, per aver visto veramente del grande cinema italiano.